e buonasera a tutti amici dei fuoricampo oggi sono qui per parlarvi di spal benevento terminata 2 a 1 per i campani ma prima di tutto vi invito come al solito a iscrivervi al canale a mettere mi piace a questo video a commentare perché con il mi piace con i commenti fate girare il video e quindi facendo girare il video ci fate vedere facendoci vedere troviamo sempre più nuove persone che diventeranno parte della famiglia dei fuoricampo quindi pollicione è fondamentale è la moneta di questa piattaforma quindi cliccate quel pollicione commentate fatemi sapere cosa ne pensate della gara appunto spal benevento in generale dell'avventura di terossi in in campo con la squadra di ferrara e soprattutto in generale della della mia idea della partita quindi apriamo questo confronto dialettico nei commenti mantenendo ovviamente un'educazione media importante quindi ragazzi non esagerate nei commenti perché poi i commenti stanno là è un problema quindi commenti nei limiti di un'educazione civile e pollicione importantissimo poi iscrivetevi abbonatevi come eppur vi piace quindi andate cliccate quei tasti e andiamo insieme ad analizzare spal benevento allora una partita brutta una partita giocata malissimo dagli uomini di terossi una partita che probabilmente era stata preparata in un modo e non so se la squadra non ha saputo metterlo in campo o se semplicemente le energie di un periodo insomma una gara brutta in cui la spal non ha fatto assolutamente di nulla di quanto dichiarato da derossi né in conferenza stampa prima partita dove sostanzialmente si era detto elastico non seguire un solo modulo ma a cercare di adattarsi a quelli che erano i suoi giocatori insomma faccio difficoltà a commentare la prestazione perché è una prestazione brutta una prestazione con una partita che ti si era messa bene perché la spal va in vantaggio con un grandissimo gol di esposito su calcio e punizione trova il set il portiere del benevento non può nulla e quindi la spal va in vantaggio e lì la partita insomma ti si era girata perché hai trovato l'episodio contro una squadra in grandissima difficoltà una squadra che non vinceva da inizio settembre eppure nonostante il vantaggio il benevento reagisce prende il pallino del gioco ti palleggia in faccia ti palleggia in casa ti viene a giocare nella tua metà campo e tu non hai mai messo il carattere la grinta l'interdizione li hai aspettati bassissimi veramente troppo bassi perché un conto è difendere un vantaggio che ci può stare perché insomma se tu prepari la gara reputi benevento magari una squadra con singoli più forti con delle capacità di gioco migliori di te ci sta che magari la aspetti bassa però con un'intensità diversa oggi non ho visto questa intensità perché si fa presto a dire fai un gioco difensivo ma il gioco difensivo è un buon gioco difensivo è difficile tanto quanto un gioco propositivo perché se non lo fai con la giusta intensità con le giuste io dico accorciate perché non fa la parola non mi viene però andando ad impattare subito l'avversario magari lasciandolo di spalle anche difendere il risultato diventa problematico la spalla si è abbassata troppo ha lasciato il pallino del gioco a un benevento ripeto in crisi di risultati canaro non aveva mai vinto quindi onestamente non riesco a capacitarmi della prestazione in campo dei ragazzi poi la partita ovviamente ti svolta per quel rosso un po' dubbio vero anche che era stato annullato nel primo tempo un gol a benevento su un fallo che c'è perché il giocatore campano spinge nettamente giocatore ferrarese in in barriera però sono quei falli che puoi dare e non dare il rosso invece diretto a peda probabilmente esagerato svolta completamente la gara del benevento perché la spalla nonostante una poca pressione nonostante non una partita fantastica nei suoi uomini alla fine ha rischiato anche pochino aiutato da un alfonso che alla fine nella prima parte di gara prima del rosso aveva fatto un'ottima prestazione e probabilmente in 11 contro 11 avresti avuto anche le energie per portarti a casa quantomeno un punto in 10 contro 11 invece purtroppo non ne avevi più dopo il rosso del rossi toglie moncini metto un difensore si schiaccia tantissimo e purtroppo sei anche sfortunato perché poi il gol lo prendi lo prendi di sfiga perché trippaldelli che non non aveva fatto male fino a quel momento purtroppo è sfortunato quindi niente lì prendi gol la partita si mette sull'1 a 1 il benevento al merito di crederci in 10 contro 11 e trova il gol sull'unico errore insomma da quando io sto vedendo quindi da quando è iniziata la la diciamo il cammino di De Rossi con sulla panchina della spalla è il primo vero errore che mi sento di annotare sui guantoni di alfonso perché insomma il l'intervento goffo con cui impatta sul sul 2 a 1 del benevento insomma poteva fare probabilmente di più sul tiro della cumina sono tre punti che pesano sono tre punti che avrebbero avvicinato la spalla alle zone alte della classifica e invece ti lasciano un po' lì in quel limbo brutto perché poi sei rimani a 15 punti dodicesimo in classifica il benevento però accorcia accorcia il cosenza la classifica si fa si fa corta si fa corta perché a parte il como diciamo dal como venezia e perugia e probabilmente le altre stanno in bagarre quindi dal pisa ecco al cosenza c'è una tantissima sono tre sei squadre in in un punto solo e lì si fa fatica si fa fatica perché oggi avevi l'opportunità per uscirne per come si era messa la gara per come sei andato in vantaggio avevi l'occasione di uscire da un pantano bruttino ora io non riesco a trovare le parole di De Rossi post partita quindi insomma mi immagino non sia soddisfatto del della oltre che di quel rosso che insomma parliamone è un rosso che secondo me non c'è un intervento si è ruvido però non credo sia da rosso da rosso diretto e la situazione ecco secondo me fa un po da pari con il gol annullato al benevento il primo tempo che c'è come regolamento perché la spinta c'è però non sempre te lo danno quindi diciamo che prendi questo piccolo vantaggio però la gara il carattere la gestione della partita in campo è stata pessima è stata pessima perché ripeto la scegli probabilmente di giocare di difesa ripartenza e però lo fai malissimo lo fai malissimo perché se nelle partite precedenti avevo criticato tantissimo la lentezza nella costruzione della spalla oggi non solo devo criticare la la poca velocità nell'andare in profondità dopo aver recuperato il pallone ma anche l'intensità con cui sono andati a contrastare gli attacchi del benevento ripeto la partita è finita 2 a 1 perché in 10 contro 11 hai provato a gestire l'1 a 0 e ti sei abbassato ancora di più alla fine ne hai presi due non so se in 11 contro 11 comunque avresti avuto l'energia per portarti a casa i tre punti perché oggi veramente la la spalla in campo non c'è stata non c'è stata né in fase difensiva né in fase offensiva quindi secondo me vittoria ben meritata del benevento che esce da un insomma esce insomma si avvia verso provare a risalire della classifica perché ha delle qualità importanti e un allenatore che ha impattato malissimo con quello che il calcio italiano oggi la prima la prima vittoria arriva perderossi la prima sconfitta quindi insomma andremo a vedere come come l'ex capitano della roma riuscirà a rialzare la testa dopo una batosta più che nel risultato proprio nei numeri in campo nell'atteggiamento in campo nel nel carattere dimostrato oggi dalla spalla questa è la mia la mia opinione siete partecipi di di questa insomma quindi commentate fatemi sapere voi come avete visto la gara e come pensate di si possa rialzare questa spalla perché ecco ripeto oggi è mancata sia la solidità difensiva che l'atteggiamento caratteristico delle prime giornate di De Rossi oltre alla solita costruzione che insomma fa fa fatica perché la qualità è quella che è anche sul primo gol della spalla si è visto vi saluto vi do appuntamento al prossimo video ciao a tutti e con l'opinione è tutto